Suffini che va ad aggiudicarsi il percorso medio del Gran Fondo Città di Torano. Chiara che bella vittoria e che bella soddisfazione. Sì, una bellissima soddisfazione su una bellissima Gran Fondo. La prima salita bellissima, il percorso quasi di casa, quindi sono molto contenta. Suffini che va ad aggiudicarsi il percorso medio del Gran Fondo Città di Torano.